E' un appuntamento da non perdere Per prenotare i biglietti basta chiamare qui in sede a TV7 Triveneta Detto questo, Giorgio Petrola, stiamo parlando di sicurezza Stiamo parlando dei varchi, degli ingressi a Venezia Gli ingressi sono liberi per tutti e a tutti oppure ci sarà un numero limitato? Faccio un esempio, visto che come dicevamo prima L'afflusso è soprattutto nei giorni festivi, sabato e domenica Se arrivano, che ne so, non so quant'è il limite Il doppio delle persone che dovrebbero arrivare Cosa succede? Entrano tutti ugualmente? Allora, diciamo che per conformazione e anche con i piani di sicurezza Venezia è abilitata anche come organizzazione dell'evento A ospitare tutti, tra virgolette Come gestione dell'evento stesso Contingentiamo gli ingressi, per esempio dove può essere In piazza San Marco, luogo dell'evento Non impedendo l'accesso, chiaramente verificando il numero di utenti Ma magari facendogli prendere dei percorsi alternativi per arrivare al luogo dell'evento Sì, però alla fine tutti in quella piazza lì più o meno Sì, però diciamo che noi tramite dei varchi di accesso Sappiamo esattamente in tempo reale quante persone stanno partecipando all'evento Quante persone possono entrare ancora da quel varco specifico Eventualmente se non potessero entrare da quel varco Presentargli un'opzione diversa di accesso alla piazza per poter partecipare all'evento Sì, però tutto giusto Ma se su quella piazza invece che 100.000 ne vanno 200.000 per tutte le scorciatoie che avete incendito voi Chiaramente Cosa succede? Lo so perché le spiego questo? Le faccio un esempio che mi riguarda personalmente Quest'anno, l'ultimo dell'anno, ero a Lisbona Sono andato alla piazza del commercio C'erano i fuochi ovviamente E la piazza teneva 60-70.000 persone Ce ne erano 130-140.000 Cosa è successo? Che quando tutti poi sono defluiti Ovviamente avevano tipo un imbuto per uscire E ovviamente la gente stava ammazzando E la polizia non poteva intervenire per non creare panico E c'è stata davvero mezz'ora di grande paura Ecco, non è che possa succedere anche questo? No, allora O è evitabile questo ragionamento? E questo, mi scusi Giorgio, per dare sicurezza ai telespedatori Per chi vuole venire a Venezia Allora, questo assolutamente a Venezia non può accadere Perché ci teniamo sempre un numero di sottocapienza Di piazza San Marco, ad esempio In modo che proprio l'esempio che lei ha fatto Non possa accadere Ci sono non soltanto un'uscita di sicurezza Chiamiamo uscita di sicurezza dalla piazza Ma sono diverse uscite di sicurezza Per cui un evento come lei ha paventato Come a Lisbona Non può accadere prima Perché la piazza non potrà mai Avere una capienza Non faremo entrare mai gente Al di sopra la capienza E quindi la blocca prima? La blocchiamo prima Assolutamente sì E quindi la blocca dunque Arrivati a capienza blocchiamo gli ingressi Assolutamente Ah ecco, questo non l'avevamo accennato prima È importante Assolutamente sì Proprio per il motivo di sicurezza ovviamente No certo, ma prima del ragionamento avevo capito Entravano tutti No, 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 a Venezia città A Venezia città Io parlavo poi in quella piazza No, no, piazza San Marco Ha un suo limite di capienza E viene contingentata secondo gli ingressi Senta, Betro Quanti persone lavorano per questo carnevale? Non avete mai fatto tra Vela Tra le forze dell'ordine Tra il comune Si parla di migliaia e migliaia di persone Tutta la macchina comunale è impegnata Nella gestione e l'organizzazione del carnevale Macchina comunale intendo Forze dell'ordine, polizia Comunque assessorati Programmazione eventi Vela stessa Si parla comunque di migliaia di persone Quindi il comune di Venezia Mette anche un budget importante per questo carnevale Visto che ci sono molte persone Quindi è anche un costo al di là Che poi si intramuterà anche in un ritorno Perché vi saluto la gente che viene Per Venezia ne trarà sicuramente beneficio Diciamo che Molto gran parte del budget Comunque è coperto da sponsorizzazioni Che si sa che un evento come il carnevale di Venezia A livello mondiale Può attrarre parecchi investitori Ma voi sapete Io amo Venezia Io ve l'ho detto prima di entrare in studio Lo ripeto Non mi vergogno Lo ripeto che durante la mia transizione Chi entra a Venezia deve pagare Punto Io lo dico Lo continuerò a dire Deve pagare Il comune deve dare poi ovviamente Tutto quello che è utile La laguna pulita Il servizio Però deve pagare Io vado in giro per il mondo Voi siete in giro per il mondo In qualsiasi posto Tu vai in giro per il mondo Anche entri Addirittura nelle chiese Paghi Perché paghi dappertutto Venezia che è un quadro Io credo che ogni angolo di Venezia Sia un quadro Lo dico Faccio un cermento giusto Fra me e me Perché adoro quella città E quindi Io E in te lo pagano Quindi questo è Però Credo sia Oggettivamente Obiettivamente Molto Molto difficile E questo è un tema Potrebbe rispondere Il mio consigliere giusto È un mio pensiero Capito Perché Andando in giro per il mondo Porca miseria Si paga davvero Per non so cosa Ti fanno pagare tutto Entri a Venezia Che come entri a Venezia Passi il ponte di Calatravo O l'altro Che va verso Dalla parte Della parte destra Di via Di piazzale Roma È bella tutta Inizia ad essere Bellissima da lì Quindi io Hai capito Giusto Non farei pagare Credo sia difficilissimo Però no Sì no Sì no Sì no Bisogna entrare un attimino Nella mentalità Del comprendere Quello Come lei dice Bisogna far pagare In realtà è una collaborazione Una condivisione Di quello che è il disagio Che la massa provoca Durante il giorno Soprattutto Da parte degli escursionisti Cioè Chi arriva la mattina Va via di sera No Praticamente La città subisce Sicuramente Un'anomalia A livello anche Di sporcizia Eccetera Di funzione Io ho letto Sapevo Che Venezia Potrebbe ricevere Mi corregga Perché potrei sbagliare Potrebbe ricevere 11-12 milioni Di visitatori Invece ne riceve Quasi il doppio In un anno Mi corregga Se dico Delle stupidaggine Difficile anche Correggere Perché in realtà È difficile Anche Ad oggi Questi che vengono 20-18-19 Vanno tutti in bagno Bravissimo Lei ha raccolto Uno degli aspetti Ho messo il più banale Che non è Esatto Sembra banale Ma in realtà banale Non lo è È il più banale Però non lo è E già partendo da questo Devono pagare per me A Venezia Però è un mio pensiero Quindi Prego L'avevo interrotta No Sicuramente Masse così Sostanziose Provocano sicuramente Un degrado Insomma Anche della città stessa Nella fruizione Quindi Non è corretto Che sia poi La cittadinanza Cioè il comune Chi attraverso il comune Comunque Elargisce Per la manutenzione Della città A provvedere A quelle che sono Le spese Che invece Devono essere condivise Con tutti coloro Che Venezia Di Venezia Insomma Attraverso Venezia Fruiscono Ecco Per esempio Ripeto Nell'arco di una giornata Soprattutto da parte Gli escursionisti Sicuramente Magari quelli che arrivano Con il panino Con la borsa Eccetera Siano sulle rive Fan tutte E stelle Oltre a Comunque Impiegare Soldi E energie Per vigilare Perché questo non accada Alla fine comunque accade E poi dobbiamo provvedere Alla pulizia Perché così Soprattutto per gli abitanti Possono avere una città Costantemente Almeno accettabile E questo ha un costo Fortissimo Per non parlare Poi di tutti gli altri Disagi Che con tutti gli ospiti Che noi purtroppo Subiamo Va bene Dobbiamo Condividere Ecco E pertanto Per esempio Anche Diciamo È una Concatenarsi Di esigenze Se io prendo Il vaporino Devo andare all'ospedale Ho degli esami Da fare Devo fare la lotta Con il turista Che anziché andare a piedi Che è la roba più bella Che possa esserci A Venezia Perdersi fra i calli veneziane No? Montano in linea Fanno il tour Attraverso quella Che è una linea pubblica Ok? Bisogna mettersi in coda Per accedere All'imbarcadale Un altro grande disagio Ma potrei elencarne Migliaia Di disagi Va bene? Questi disagi Devono far parte Di quello che non è Un prezzo da pagare Ma è una collaborazione Per quello che è un disagio E quindi cosa farebbe lei? Quindi Non è una tassa Ma è una compartecipazione Delle spese Farebbe come dico io Insomma Cioè la chiami come vuole Io l'ho chiamato in maniera No no Lei è più esplicita Diciamo Lei l'ha messa a livello politico Io l'ho messa in maniera pratica No no Questo termine Tante volte l'ho usato Da chi magari è contrario No no Ma lo sai io farei Vedi no? Vedi no? Venezia è Libra Patrimonio dell'umanità Quindi tutti hanno il diritto Ma nessuno toglie il diritto No 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 Certo Però non posso spendere io Per l'umanità Io le faccio il mio sogno Ormai nelle città Si cerca di ridurre il traffico Perché ovviamente Inquina e tant'altro Anche le barche inquinano Anzi Quelle grandi che arrivano addirittura Ho letto un giorno 260 mila autovetture Per ogni nave da crociera Passaggio Inquina per 260 mila automobili È una roba incredibile Allora io dico Faccio pagare Do il servizio Do un servizio Lo so il mio sogno Qual è adesso Visto che è il carnevale Possiamo anche fantasticare Vedere tutto il canna grande Con i fari sotto l'acqua Che illuminano l'acqua Con l'acqua pulita È un sogno da non veneziano Che io ho venendo a Venezia Perché amo Venezia Con la nebbia Con l'acqua alta Con la neve Con il sole Il tramonto Mi piace in tutti i sensi E quindi ho peccato mortale Lasciarla lì E di conseguenza Dopo tutto quello che ho detto Ma i veneziani cosa dicono I veneziani sta bene Oppure cosa dicono È un bel sogno per esempio Illuminare l'acqua Il sogno del veneziano Il mio sogno È quello di Vedere una volta Definitivamente L'acqua della laguna Fruibile Nel modo corretto E quindi vedere la laguna Come specchio d'acqua Oggi purtroppo Noi sappiamo che a Venezia Le strade sono l'acqua È chiaro che se mette l'acqua sotto Le masse turistiche che arrivano Hanno questa buttudine Di trasformare la loro presenza In città in tour I tour a Venezia Non vengono fatti con I bus panoramici Ma vengono fatti A bordo di gran turismi Di barche Che comunque Provocano quello che è Il problema di sempre Da quando il motore Ha fatto la prima comparsa A Venezia Che è il moto ondoso Ecco Quindi questo è Uno dei problemi Che risultano Dalle presenze È giusto I veneziani cosa dicono? Sono incazzati Vanno via da Venezia Sono incazzati Ma più incazzato sono io Più incazzato sono io Ma insomma Se siete tutti arrabbiati Potete anche dimostrarlo Insomma no? Certo come no Se noi riusciamo ad acquisire Quelli che sono I poteri Sulle acque E vi dirà Stiamo vaneggiando? No? Adesso vi faccio un esempio Davanti piazza San Marco Dove c'è il cuore pulsante Della nostra storia Palazzo Ducale Palazzo Ducale Non è veneziano Marco se abbiamo Il piazza San Marco Così mentre sentiamo giusto Vediamo anche le immagini Un'assurdità Palazzo Ducale Già non è Non è veneziano È dello Stato Certo Ok Il bacino di San Marco Va bene Che è uno dei luoghi Dove si intrecciano Di più i percorsi Delle assi Tra virgolette Turistiche Ecco Non è di competenza Del comune di Venezia Quindi l'amministrazione Comunale In bacino di San Marco Non può sollevare Contravenzioni E non potrebbe nemmeno Vigilare Perché comunque Se vigilo E intervengo Non lo posso fare Non è competenza Nosa Dello Stato Area portuale Carabinieri Capitanerie di Porto Posso intervenire I carabinieri Certo Però E qua abbiamo un problema Perché comunque L'amministrazione Che dovrebbe Sentirsi anche in dovere Di tutelare Prima di tutto Quello che è il perimetro Della città Che è la laguna Ricordiamo che le acque Hanno sempre difeso Venezia Sono state per sempre Da sempre Le mura della città Oggi le acque Sono quelle che devastano La città Certo Certo Capisco Il concetto che non riesco a capire Perché è un mio modo di vedere Di cercare di mantenere Venezia Sotto un certo punto di vista I veneziani si arrabbiano E la pensano come me Poi non posso venire E non posso essere attuato Ma perché il loro rappresentante Deputato Eletto Praticamente Quindi rappresentante Della comunità di Venezia Non ha poteri Cioè non può intervenire Sulle acque Perché ci sono organi superiori Dello Stato Che ne hanno il dovere Ma il disagio permane Quindi pertanto Bisogna Quanto meno Cercare di rimediare Con maggior presenza Quindi il sindaco Non ha poteri In questo Il sindaco ha poteri Soltanto sui canali interni Della città Che già Ha un bel problema Per via del La parliamo di traffico Va bene Anche di motondoso Ma parliamo di traffico Il vero motondoso Noi purtroppo Lo patiamo Su tutto il resto Tutta l'acqua Che perimetra Praticamente la città E non solo E sulla laguna Certo Abbiamo un po' Tergiversato Sul carnevale Però credo Visto che parliamo Di Venezia Il carnevale di Venezia Si è giusto parlare Ovviamente Anche di questa problematica Ma al di là di tutto Giusto Se non succederà Mai questo Se le grandi nave Continueranno ad arrivare Se tutti parlano Tutti sarabbiano E non cambia nulla Venezia è destinata Un po' alla volta Esatto Questo Non lo voglio nemmeno pensare E lei Non lo nomini Che non si sa mai Non l'ho nominato Non l'ho nominato No L'unica cosa È che noi dobbiamo Dobbiamo A mio avviso Cercare Di non fare il gioco Di chi comunque Conviene Che accada Che è quello di Frammentarci Contrapporsi È il problema Della nostra comunità A Venezia C'era una contraposizione Che ha fatto storia Venezia era divisa In due est e ovest Nicolotti e Castellani Si distinguevano Da baretta nera I Nicolotti E i Castellani Da baretta rossa Mi spieghi I Nicolotti Che zona di Venezia Sarebbero Nicolotti praticamente Sono la parte ovest Dorso Praticamente Dorso duro Santa Croce San Polo Mentre la parte est Castello San Marco Sono i Castellani E erano due fazioni Esiste Esiste sempre Da per tutto Un nord e un sud E noi va d'accordo Era così anche per Venezia Quindi figuriamoci Tanto che il Doge A un certo momento Aveva regolamentato Questa sorta di esigenza Di sfogo Sulla ragione Su qualsiasi tipo Di discussione Attraverso il Ponte di Pugni Dove organizzava Regolarizzando Delle sfide tra Nicolotti E Castellani E chi rimaneva in piedi Aveva ragione Alla fine Ecco E questo era Per non Per non creare Di malanni seria La popolazione Nell'affrontarsi Ma attenzione Cogliamo il significato Di Nicolotti Castellani Contrapposti da sempre Ma quando la patria La Repubblica Chiamava Allora Un bel gesto Veniva fatto immediatamente Si riunivano Prendevano Una fascia nera Che rappresentava Nicolotti Una fascia rossa Le annodavano E da quel momento Si ritornava Patria Famiglia C'era un problema E bisognava affrontarlo Tutti assieme Risolto il problema Si snodava E si ricontinuava E oggi Quelle fazzolette Non si annodano più Abbiamo mille fazzoletti Da annodare E non riusciamo a annodare Eh mille sono tanti Sono tantissimi Allora Noi parliamo Parliamo Poi alla fine E facciamo il gioco Tra virgolette Di chi evita Di risolvere Un problema Che invece è Drasticamente Perché poi Perché poi Se succede questo Ovviamente vanno anche A farsi benedire Le tradizioni Insomma E quindi Tutto E fa farsi benedire La bellezza E il fascino di Venezia In tutto E su tutto Insomma Giusto Vabbè Peccato Speriamo che Magari qualcuno Riesca Noi sicuramente Poi con molta attenzione Che è la vicenda Mose Che anche noi Non sappiamo Come se ne Era fuori Proprio uscito Oggi Sul giornale Sulla nuova Proprio Oggi Che 30 milioni Di euro Perché l'acqua alta Non entri più In piazzale San Marco Oltre i 110 centimetri Così non ho letto Tutto l'articolo Ho letto La prima fase Però se c'è La volontà Finalmente Una volta Di poter risolvere Questo benedetto Problema Se no Ahimè Cosa ne pensa lei Io chiedo a lei L'organizzazione Però Vive Venezia anche lei Non quindi Sì sì assolutamente Cosa ne pensa Di tutta questa situazione Ma Io sono un po' Lei era con i rossi O con i neri No io Era fuori Io sono Della terraferma Ah quindi Un'altra fazione Ancora no A parte i scherzi Però Ascoltando uno Che vive in Venezia E uno che ascolta Queste storie Ma io in Venezia Comunque la vivo Sì però sono anche Affascinanti ad ascoltarle Tutto queste storie Qui poi Assolutamente sì Ma poi comunque La storia di Venezia È affascinante A 360 gradi In qualsiasi Sua manifestazione No Io sono un po' Più ottimista Rispetto al consigliere giusto Secondo me Alla fine Alla fine Alla fine Fine Quando sarà il momento Di Affrontare il problema Ci si riunirà tutti E Però Dipende Per il bene comune Se prima bisogna fare i morti Per affrontare il problema Sarebbe meglio Molto Insomma Anticipare questo Perché succede sempre E poi Io Anche lei E anche voi E anche tutti noi Quando vede Che arrivano Quelle grosse navi Da cruciera Io a Rovenezia Quando arriva Rimane all'imito Però lei Guardi che interessi Ci sono dietro È difficile Toglie tutto L'interesse E quel meccanismo lì È difficilissimo Poi ci si va a scontrare Anche con Delle Degli svolti Economici Territoriali Occupazionali Non Non indifferenti Per cui Sarebbe giusto Salvare capra e cavoli Ecco diciamo Sarebbe giusto Salvare Venezia Quello sicuramente I cavoli I cavoli Possono andare Definiamo capra Venezia Giusto definire Esatto Per me è giusto Salvare Venezia Quello in primis Poi chiaramente Cercando Di salvaguardare Anche tutto il resto No sicuramente Sì Vabbè abbiamo un po' Allargato il ragionamento Credo sia anche giusto Con voi veneziani O di terraferma Di parlare di questo Io poi parlerei Tutti i giorni di Venezia Andiamo tra poco Nella pubblicità